Se volete ricevere uno sconto da utilizzare per l'acquisto di prodotti sul nostro sito internet allora guardate questo video. Da diverso tempo è possibile nel nostro sito iscriversi alla newsletter questo dà la possibilità ai nostri clienti di rimanere sempre aggiornato nelle ultime offerte nei prodotti che vengono inseriti quindi scoprire quali sono proprio le le novità del nostro sito ma da adesso per chi si iscrive alla newsletter ci sarà un grandissimo vantaggio che è quello di ricevere uno sconto del 10 per cento a voi riservato e di continuare quindi ad avere anche a ricevere delle offerte proprio mirate solo per i clienti iscritti nel newsletter quindi ecco il mio consiglio è quello di iscrivervi e di continuare a rimanere sempre aggiornati. Un'ultima precisazione che vorrei fare è quella di dirvi che la nostra newsletter non sarà assolutamente invasiva non andremo a tartassarvi tutti i giorni di mail ma anzi vuole essere un servizio che diamo al cliente quindi invieremo una barra due mail al mese dove vi indicheremo quali sono i nuovi prodotti se ci sono degli sconti a voi riservati degli articoli del blog quindi non preoccupatevi sotto questo punto di vista una volta iscritti alle newsletter riceverete un codice promozionale che dovrete andare inserire quando avete terminato l'ordine nello spazio riservato ai coupon vi ricordo inoltre che questo questo sconto è accumulabile con altri sconti già presenti nel nostro sito e va ad accumularsi anche alla spedizione gratuita sopra una spesa minima di 400 euro quindi mi raccomando approfittate di questa grande offerta che abbiamo deciso di farvi e iscrivetevi alla newsletter per maggiori informazioni clicca nel link in descrizione ti ricordo inoltre di iscriverti al nostro canale youtube e di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato seguici sui nostri canali social e se questo video ti è piaciuto metti un bel like ciao ci vediamo al prossimo video